Un giovane viola all'alta polizia, beccato, denunciato e sanzionato. L'agente dei lavoranti della questore di Siracusa impegnati nel servizio di controllo del territorio hanno denunciato un giovane di 21 anni per il reato di resistenza pubblico ufficiale per non essersi fermato all'alta polizia. I poliziotti nel corso di un posto di controllo fermavano il 21enne che viaggiava a bordo di un motociclo. Il giovane per non rispettare l'ordine degli agenti e guadagnarsi la fuga metteva in atto un manovre repentino e pericoloso per la circolazione stradale. Rintrecciato subito dopo, veniva denunciato per il reato di resistenza pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente a norma del codice della strada. Con l'occasione si ricorda ancora una volta a tutti i giovani di prestare la massima attenzione alla guida di motocicli e ciclomotori e di rispettare tutte le norme del codice della strada evitando di eludere i controlli delle forze dell'ordine mettendo a repentaglio la propria e l'altrui incolumità. Inoltre i genitori controllino che i figli, oltre a indossare il casco protettivo abbiano i documenti del mezzo in regola e soprattutto l'assicurazione. Molti cittadini invocano giustamente controlli in tutte le zone di Siracusa centrale e periferiche ma la repressione non basta garantire la sicurezza della circolazione statale. La legalità e la sicurezza sono valori condivisi e integrati con la partecipazione di tutti. anche se sono stati rinforzati al massimo i controlli nei luoghi della movilità siracusana non bisogna dimenticare che la prevenzione salva le vite ed è molto più importante un intimo convincimento del rispetto delle regole e delle leggi che i posti di controllo della polizia.